e poi questa cosa che mi sono lasciato con la ragazza è stato proprio un po' il fuoco dentro devo continuare ad andare avanti e conoscerne di più Sì, ma poi fra l'altro nel momento in cui sviluppi più abilità cresce anche la qualità delle ragazze che trovi questa qua è una cosa che ho notato un sacco appunto io ho visto che tutte le volte magari trovavo una che pensavo fosse super speciale, incredibile poi vedevo che magari quando magari per esempio lasciavano la mia città magari se per esempio viveva in un'altra città magari se ne andava perché stava magari un mese o due settimane robe così e dicevo no cazzo non ne troverò mai più una così poi man mano che sviluppi più abilità in realtà cresce anche diciamo hai più scelta tu e automaticamente in realtà non è così automatico però trovi anche ragazze di più alta qualità e tutte le volte lo vedo cioè se dovessi tipo confrontare mi ricordo la primissimissima ragazza con cui sono uscito ho detto no questa qua è incredibile poi se mi mettersi proprio a tracciare tutte le varie ragazze ci sono state in mezzo con le quali ho detto no questa qua è incredibile vedrai che proprio tutte le volte è un crescere fino all'ultima con cui sono anche andato in vacanza ah sì ho visto ho sentito ah sì ho visto ho sentito